Il messaggio, quando la situazione si fa complicata, tu metti piano, danza, al centro della stanza, si ascoltano al telefono, si guardano i satelliti, ci segnalano i graffi, non trovano gli acquisti, ci sfogano le pantomani, ci rubano le pazze, si radiano, si scagnavizzano, ci perfusiscono, eppure non mi sono mai sentito così libero, libero, eppure non mi sono mai sentito così libero, 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 perché io danzo, perché io danzo, sulla frontera, perché io danzo, perché io danzo, sulla frontera, ci prendono le camere, ci prendono i palontari, non tu metti, non tu metti, non tu metti, non tu metti, oltre, ne vediamo la domenica, il deponare la domenica, ci dico un Zombare, che è ora l'ho trovato, ci condu Into � , ci rid school in base a fare cose che vogliano dire, non tu metti per quella nella Venezia è tipo è buono! questo è il primo! sta in posta di là! finchia la ove! finchia ove! oeeh! 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 ooooh! eppure... 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 questa vita iper controllata io non mi sono mai sentito così libero libero! 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 eppure non mi sono mai sentito così libero! 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 eppure non mi sono mai sentito così libero! perchè? perchè io canso? perchè io canso? si lo soffierà! perchè io canso? perchè io canso? si lo soffierà! si lo soffierà! biuro! 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 buona! bene! deti a via! Andiamo! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!